e felicissima per l'invito raccolto dalle persone a lei più care tutte le accarezzano l'enorme pancione e lei le lascia fare l'ex miss italia claudia andreatti organizza il baby shower per il bambino in arrivo nella sua bella casa a lugano in svizzera dove vive con il compagno andrea tognola il piccolo alessandro andrea venuto al mondo il primo marzo del 2021 il bimbo avrà un fratellino il secondo bebè della 36enne si chiamerà edoardo le amiche sono tutte lì tra di loro ce n'è una famosa laura barriales claudia ex modella conduttrice tv ultima signorina buonasera della tv di stato indossa una camicia in sciffon nera con mezzo collo e maniche lunghe e sotto jeans comodi alla caviglia sottoporta deliziose scarpe col tacco ha tirato sui capelli e sorride felice in casa l'allestimento è perfetto tutto nei toni del celeste e del bianco sulla tavola troneggiano una quantità di dolcetti infinita ci sono anche tanti pupazzetti a forma di cervo e orsacchiotto stelle palloncini e candele la festa è riuscitissima le amiche la coccolano le scattano foto che poi condividono sul social l'andreatti fa un breve discorso in cui le ringrazia per aver accettato di esserci si brinda con un calice di champagne al suo fianco c'è pure la barriales che vive sempre a lugano la 40enne è sposata con l'imprenditore ticinese fabio cattaneo e mamma di melania quattro anni e romeo due e mezzo e legata a claudia da una forte amicizia entrambe hanno lasciato in italia per amore la barriales sulla scelta della svizzera aveva detto anche che lì si sente più sicura non ho paura di girare in monopattino con mia figlia a volte lascio il passeggino in un angolo della strada e poi lo ritrovo lì non mi capita in nessuna altra parte d'europa